Abbiamo ribadito che per quanto riguarda il Governo lavoriamo intensamente per arrivare a raggiungere un'intesa in tempi rapidi. Il Governo ha raccolto nel protocollo di intesa suggerimenti che sono arrivati dagli enti locali e in gran parte dalle parti sociali. Io ho detto al tavolo che non ci sarà altra convocazione su questi aspetti fino a quando non ci sarà il ritiro del ricorso perché quello che dovevamo dire e raccogliere da parte degli enti locali lo abbiamo inserito nel protocollo di intesa. In questo momento non abbiamo alcuna controproposta. Abbiamo sentito dire ieri in Consiglio regionale che c'è una convocazione che non esiste perché gli enti locali ci hanno chiesto di lavorare sulla base di una lettera che è arrivata al Governo a firma del Sindaco di Taranto. Quello che era stato inserito in quella lettera il Governo lo ha raccolto. L'azienda accumula perditi. Noi vogliamo collocare un'impresa che sia altamente produttiva e in condizione di continuare ad avere prospettiva per i lavoratori. Quindi i tempi non sono ininfluenti. Abbiamo mandato il protocollo, aspettiamo una risposta rapidamente. Io voglio sperare che la risposta sia una risposta in sintonia con le richieste che sono state avanzate in precedenza e quindi si può passare alla sottoscrizione e al ritiro del ricorso al Taranto. Il Ministro Calenda e i ministri, i rappresentanti del Governo che sono stati a questo tavolo abbiamo lavorato sempre e assolutamente in sintonia con il Presidente Gentiloni. Sarebbe ben curioso che una persona come me o un Ministro arriva a un tavolo senza aver condiviso e senza portare le posizioni che appartengono a tutto il Governo. Questa è una visione molto sportiva delle istituzioni. Noi stiamo ancora a quello che è il dettato della nostra Costituzione. Le istituzioni parlano, assumono impegni, si comportano in modo rigoroso e hanno il dovere della leale collaborazione. Questa è stata messa in campo da parte del Governo. Io auspico che da parte di tutti i livelli istituzionali ci sia il richiamo a questa parte fondamentale del nostro dettato costituzionale. Grazie. Grazie.